di fatto è una strategia short sul footsimib, allora la strategia su Louis Vuitton era 7,9605 stop a 7,97 qui invece lo short è a 27.450 punti quindi è una strategia che di fatto è andata ad attivarsi stop stretto 5,50 1,100 punti per quanto riguarda invece il target 27.280 punti non è che ci creda totalmente nel senso che vedo la forza siamo su un livello che va lavorato non volevo prendermi uno stop troppo grande ma quel punto rischio rendimento stop target essendo che ragione minotica intraday ho messo questi 280 punti Pietro